troncarami fiscars applicazione potare gli alberi è uno dei lavori più difficili per un giardiniere il fattore determinante è la scelta corretta del troncarami è costruito in modo che con un principio vantaggioso dell'utilizzo della leva non è necessario uno sforzo sovraumano per la potatura dei rami è chiaro che il troncarami è utile per velocizzare operazioni altrimenti fattibili con i seghetti il troncarami si colloca tra l'utilizzo delle forbici che funzionano con diametri da sottile fino a circa 10 mm il troncarami si colloca tra l'utilizzo delle forbici che funzionano con piante dal diametro sottile fino a circa 10 mm e poi oltre i 2-3 cm è consigliabile utilizzare appunto i seghetti è anche vero che il taglio con i troncarami rovina meno la pianta permettendo una migliore cicatrizazione della parte tagliata grazie a tutti